E' stato approvato questa mattina in Consiglio Comunale a Pescara il nuovo regolamento del gruppo dei volontari di protezione civile. Il codice della protezione civile prevede nell'articolo 35 infatti la possibilità che i comuni promuovano la costituzione di un gruppo comunale in cui siano inserite tutte le professionalità che vengono coordinate dal sindaco che ne assume il ruolo di responsabile garante. Accolte però dalla maggioranza le istanze del centro sinistra raccolte in una mozione. Abbiamo ottenuto proprio il riconoscimento del valore aggiunto che le associazioni e le organizzazioni di volontariato sul territorio hanno sempre avuto e continuano ad avere. Hanno dimostrato grande forza e determinazione nell'affrontare tutte quante le situazioni di emergenza e non era giusto tenerle completamente al di fuori. Bene la costituzione di un gruppo comunale ma era anche giusto rendere partecipi di questa costituzione chi ha sempre operato accanto all'amministrazione. Fortunatamente abbiamo avuto l'accoglimento di molti emendamenti importanti tra cui anche l'inserimento all'interno del regolamento della funzione del consiglio che è importante proprio per monitorare che tutte quante le procedure avvengano appunto secondo principi democratici e allo stesso tempo importante la mozione che hanno sottoscritto alla fine anche dei consiglieri di maggioranza che determinano proprio l'importanza delle organizzazioni di volontariato e danno loro la possibilità di interagire questo è fondamentale.